Eccoci con Rita Botto e il maestro Sebastiano Bellarte. Rita, com'è andata la serata? Ma io sono stata benissimo e dunque credo che anche dall'altra parte ci sia stata una risposta. No, è andata bene, molto bene. Il pubblico chiede il bis? Sì, sì, certo, ci saremo per il bis. Mai deludere il pubblico. Mai deludere il pubblico. Maestro, ci siamo allora? Sì, sì, certo. Stabiliremo insieme una data e faremo una replica perché abbiamo avuto tante richieste e purtroppo non abbiamo potuto accontentare tutti. 550 presenti? Sì, sì, sì. Dicevamo l'altro giorno durante l'intervista precedente che i biglietti si sono esauriti in cinque giorni appena. Sì, in cinque, sei giorni. Tant'è che non ci aspettavamo questo successo e allora siamo rimasti un po' sorpresi anche noi perché poi dal momento in cui ti vengono a cercare il biglietto e tu non ce l'hai, ci è dispiaciuto tantissimo. E quindi abbiamo, soprattutto negli ultimi giorni, abbiamo attenzionato tantissimo questa cosa anche con Rita. Ci siamo confrontati e insomma non dico subito al ridosso della serata di ieri ma faremo sicuramente una replica. Tanto il pubblico di giovani ieri? Sì, e questo è anche una cosa bella perché insomma portare i giovani al teatro ad ascoltare Rita Botto, la canzone siciliana, la musica tradizionale è una cosa che andrebbe fatto più spesso. Si aspettava a Rita tutta questa presenza di giovani? No, comunque voglio dire e ribadisco che non c'erano solo giovani, ho visto molte facce mature e credo che questo è uno spettacolo che non ha età. E dunque è giusto che non ci siano soli giovani ma anche le persone adulte che amano questo genere di musica. Per cui per loro sentire un pezzo come Me Muglieri in Navi Pila, io vedo sempre a questo pezzo la gente sorrisi, ecco vedo sempre dei grandi sorrisi perché è un pezzo molto spiritoso e quindi insomma coinvolge la gente. Credo che il pubblico adulto forse apprezza ancora di più. Per i giovani è una novità, per loro invece è un revival. C'è una domanda che vorrei fare a entrambi, la stessa domanda, c'è un brano che vi accomuna? Beh, Fatteli Fatti Toro l'abbiamo fatto insieme per cui è un brano che ci ha accomunato. Non ce lo siamo chiesto? È venuto spontaneo questa cosa? Sì, sì, ma tutti i brani diciamo che, fra virgolette, li abbiamo concordati con Rita, cioè ogni brano, cioè io chiamavo Rita, lei chiamava me, Sebastiano che ne pensi se facciamo questo brano? Oppure io chiedevo a lei, Rita ma che ne pensi se facciamo a Virrinetta ad esempio, che è il brano del Bis che è piaciuto tantissimo, no? Perché il brano che diceva Rita è Fatteli Fatti Toro, che è un brano dove le parole, è originale, dove lei ha messo le parole, io gli arrangiamenti e la musica insieme a lei, insomma è stato un brano che è nato insieme, sì, sì, sì. Insomma un grande successo, aspettiamo il Bis.